Anita Garibaldi, l'eroina dei due mondi Ana Maria de Jesus Ribero da Silva, meglio conosciuta come Anita Garibaldi, è stata una rivoluzionaria brasiliana naturalizzata italiana, moglie di Giuseppe Garibaldi. Considerata l'eroina dei due mondi per il suo coraggio e la sua dedizione alla causa della libertà e dell'uguaglianza, combatte al fianco del marito in Italia e in Brasile. Nata a Morrinos, in Brasile, il 30 agosto 1821, Anita crebbe in una famiglia di modeste condizioni. Fin da giovane, dimostrò un carattere forte e indipendente, rifiutando i ruoli tradizionali imposti alle donne all'epoca. Nel 1839, all'età di 18 anni, sposò Manuel Duarte de Aguiar, un calzolaio molto più vecchio di lei. Il matrimonio fu infelice Anita, desiderosa di una vita più avventurosa, lasciò il marito per unirsi alla rivolta repubblicana guidata da Giuseppe Garibaldi. L'incontro con Garibaldi cambiò per sempre la vita di Anita. I due si innamorarono perdutamente e si sposarono nel 1842. Insieme, combatterono per la Repubblica Romana nel 1849. Anita seguì Garibaldi in esilio in America Latina, dove continuarono a lottare per la libertà e l'indipendenza. Anita era una donna guerriera, abile nel maneggiare le armi e nel cavalcare. Partecipava attivamente alle battaglie, spesso in prima linea, dimostrando grande coraggio e tenacia. Si prendeva cura anche dei feriti e dei malati, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione di tutti. Nel 1849, durante la fuga dalla Repubblica Romana dopo la sua caduta, Anita, incinta di sette mesi, contrasse la malaria. Morì il 4 agosto 1849, a soli 28 anni, nella fattoria Guiccioli a Mandriole, vicino a Ravenna. La sua morte fu un duro colpo per Garibaldi e per tutti coloro che la conoscevano. Tuttavia, il suo esempio di coraggio e sacrificio continua ad ispirare le generazioni future. Anita Garibaldi è una figura fondamentale del risorgimento italiano e un simbolo di libertà e di emancipazione femminile. La sua storia è un esempio di come le donne possano superare le barriere imposte dalla società e giocare un ruolo attivo nella storia. Oltre al suo coraggio in battaglia, Anita era anche una donna colta e sensibile. Amava la musica e la poesia, e si dedicava all'educazione dei figli. Era una madre affettuosa e premurosa, sempre attenta al loro benessere. La memoria di Anita Garibaldi è viva ancora oggi. In molte città italiane le sono state dedicate strade, piazze e monumenti. La sua figura è stata celebrata in opere letterarie, cinematografiche e musicali. Anita Garibaldi è un esempio di donna forte e indipendente che ha lottato per i suoi ideali. La sua storia è un patrimonio prezioso da conservare e tramandare alle future generazioni.